Non rida, non rida alcuno si fa spesso tanto, no, scusi il francese, non deve ridere, non deve ridere, se ne boccia non devo bocciare ridendo, io la caccio, al più si dice non ammesso, non ho cacciato, il cacciatore può fare la foresta, può fare l'insegnante, come doveva fare la lezione, no che adesso se ti permetti di bocciare, quando uno scrive non fa niente, a me sta cosa non mi va bene, io ne faccio problemi grossi, capito, io rispetto all'inizio, ma poi rispetto solo se sono rispettato, prima fa passare peggio idioti, adesso uno che scrive le cose non fa più bene, esce la gente, non ci sono più i testimoni, ma certo, allora io piosto fuori, io lo strappo e rifaccio l'esame, perché? Perché decido io, io va bene sta cosa a lei, le va bene? Non sta mancchendo nient'altro, nient'altro di imparzialità, e lei non è stata in grado di darcela, come lei non è stata in grado di darci delle lezioni, che si aspetta che le faccia io, eh? Che abbassi la testa, eh? Che si aspetta? Ma spiega che si aspetta, no? E quanti facci, che si aspetta? Da uno che ha passato l'interessata su questa maniera, su degli attuti, da schifo, spiegare via lei, chi si aspetta? Ma che glielo devo fare? Ma che devo vendarmi? Io ho passato il compito, perché dovrebbe bastare che tutti l'anno è bastato? Se c'è dei problemi interi con i centri e le risolvete lavare una docente, non la piante con noi, se a me mi fate perdere la vita, la vita a me e lei non manda, io sono qua, che sto come lei, con la stessa età, la differenza è che lei è pagato, io invece parlo, a me sta cosa non me va bene, e lei fa il mio c***o.